Nelle calde serate di fine agosto, diverse sono le occasioni in città per godere della buona cultura all'aperto. Lo spazio antico del parco di Pausillipon a Coroglio ospita questa sera, giovedì 23, il lavoro teatrale del Minotauro, tratto da Cortazar e Dürrenmatt, revisione dello scenario mitologico sotto la metafora della violenza del potere. La rassegna Teatri di Pietra si concluderà sabato 25 con lo spettacolo di teatro e danza Ione, tragicomica vicenda basata sull'opera omonima di Euripide. Alle terme di Agnano martedì 28 ancora un lavoro ispirato alla tragedia greca. Radio Argo di Igor Esposito è una polifonia narrativa che ripercorre l'orestea di Eschilo con un solo attore sulla scena, un formidabile Peppino Mazzotta che per questa interpretazione ha vinto qualche giorno fa il premio Ruccello 2012 al Positano Teatro Festival. Ultime settimane per la rassegna di cinema Accordi e Disaccordi al Parco del Poggio. Domani sera, venerdì 24, Carnage di Roman Polanski. Lunedì 27 a Simple Life di Anne Hui.